Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, ralientamenti per traffico verso Bologna tra Calenzano e Bio 1 variante. In A11 restano ralientamenti per traffico intenso verso Firenze tra Pistoia e Firenze Ovest, possibili disagi inoltre per perdita di carico tra Bio 11, Firenze Nord e Firenze Ovest nella carreggiata in direzione mare. In FIPI persistono code a tratti per traffico verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, sono in corso ancora per qualche giorno i lavori di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria a Firenze Castello, danneggiata dallo sviluppo di un carro merci il 20 aprile. I lavori comporteranno ancora per qualche settimana la riduzione dell'offerta commerciale sull'aliena regionale Firenze Prato. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info a servizio in collaborazione con Giorgio Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.